21% il tasso di incidenza covid di oggi, 453 persone toccate dal virus in Irpinia, una discesa che dal lato stride con l'aumento dei decessi. Ieri un'altra persona, ancora un anziano fragile a perdere la vita, un 74enne di Montemiletto, ricoverato dallo scorso 2 luglio nel reparto di medicina interna, indirizzo epatologico al Moscati di Avellino. 11 pazienti ricoverati al Frangipane di Ariano, 6 in degenza ordinaria a era covid, 5 in subintensiva. L'osservatorio Gimbe ha stilato un elenco delle province in cui si registrano oltre 1000 casi covid per 100.000 abitanti, su 16, 2 della Campania, Benevento e Avellino. La nostra provincia è la sedicesimo posto, il primato lo detiene Chieti, poi Teramo, Pescara, Scolipiceno, Messina, Fermo, Macerata, Rovigo, Benevento, Reggio, Calabria, Catanzaro, Venezia, Perugia, Treviso, Taranto e chiude Avellino. In calo sono anche i casi attualmente positivi, che sono stati 1.395.433, pari al meno 4%, insieme al calo delle nuove infezioni da SARS-CoV-2, si registra una diminuzione del numero dei tamponi rapidi e molecolari effettuati della settimana 20-26 luglio, pari a meno 11,4%. Aumentano invece, secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, le reinfezioni di guariti. Secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità nel periodo 24 agosto 2021-luglio 2022, sono state registrate in Italia oltre 813.000 reinfezioni, pari al 5,2% del totale dei casi. La loro incidenza nella settimana 13-20 luglio si è attestata al 12%, più 11,7% rispetto alla settimana precedente. Grazie.